Dal 1 luglio 2022 anche gran parte dei soggetti in regime forfettario, inizialmente esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica, dovranno invece emettere fatture che transitino dal sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Fatturazione elettronica di Aruba è la soluzione ideale per i forfettari, ma anche una buona occasione per chi, pur non avendo alcun obbligo, desidera dare una svolta digitale alla gestione dei cicli di fatturazione, rendendoli più veloci, comodi e sicuri, ma soprattutto risparmiando tempo e denaro. Sulla base dei consigli arrivati dai nostri clienti e ascoltando le loro necessità, abbiamo via via arricchito il nostro servizio di tante funzionalità che lo rendono perfetto, soprattutto per i contribuenti in regime forfettario. Innanzitutto, fin dalla fase di configurazione, puoi scegliere il regime fiscale e la cassa previdenziale di appartenenza, che verranno applicate in automatico ogni volta che utilizzerai il servizio, o impostare la posizione automatica del bollo in fattura, così da non dimenticarlo quando necessario. Tra i dettagli della causale delle fatture, puoi inserire il testo standard automatico, fattura non soggetta alla ritenuta alla fonte, particolarmente utile per i forfettari. Una volta selezionato, il servizio lo aggiungerà in automatico nelle tue fatture. Abbiamo inoltre aggiunto codici IVA particolari e molto utilizzati dai contribuenti forfettari richiamabili con un semplice clic. Hai paura di non riuscire a utilizzare il nostro servizio? Oltre all'assistenza gratuita, abbiamo messo a tua disposizione guide, tutorial, videoguide e articoli sul nostro magazine. Ma ancora di più, ti ricordiamo che il tuo commercialista può collaborare con te direttamente sul tuo pannello. A lui basterà l'iscrizione gratuita al servizio e tu dovrai solamente fornirgli i permessi per lavorare per tuo conto o impostare per te tutte le configurazioni necessarie del servizio. Se non sei ancora convinto, prova subito gratis la demo del servizio.